In Abruzzo vengono spesi 2,8 miliardi di euro l'anno per garantire le prestazioni sanitarie, ma i posti letto sono diminuiti in tutte le province nell'ultimo decennio con svantaggi soprattutto per le aree interne della regione. Lo si apprende da un'analisi dell'osservatorio Abruzzo Open Police. A livello nazionale nel 2020 i costi del servizio sanitario ammontavano a circa 130,2 miliardi di euro. Questi costi vengono ovviamente ripartiti tra i territori del paese, tra cui l'Abruzzo, dove i costi maggiori sono rappresentati dalla fornitura di beni e servizi 1,9 miliardi di euro, oltre che dal personale sanitario e professionale 655,9 milioni. Nella regione questi servizi hanno dei costi pari a 1,4 miliardi di euro. La fornitura di servizi essenziali incide infatti per il 47,3%. L'assistenza ospedaliera per gli acuti e il segmento con costi maggiori con 1,1 miliardi di euro a cui seguono le attività di pronto soccorso con 106,7 milioni. La maggior parte di questi costi va a coprire le spese per il personale sanitario 36,3%. A questa seguono i costi delle prestazioni sanitarie 22,7% e i costi dei servizi non sanitari 12,2%. Tra il 2010 e il 2019 i posti letto nelle strutture di ricovero abruzzesi sono diminuiti passando in quasi un decennio da 5.333 a 4.361 con un calo di 972 unità pari al 18,2%. Si tratta di una variazione particolarmente evidente nelle aree interne e Pescara, la provincia caratterizzata dal maggior numero di posti letto nelle strutture di ricovero 1260, seguono l'Aquila 1143, Chieti 1114 e Teramo 884. Nel periodo 2010-2019 le diminuzioni più consistenti hanno riguardato le province di Chieti meno 32% e Teramo meno 18,5%. La diminuzione dei posti letto dal 2010 al 2019 è avvenuta sia nelle strutture pubbliche che in quelle private accreditate ma se per le prime la discesa è stata netta e costante il numero di posti letto nelle seconde è rimasto quasi invariato. Nelle strutture pubbliche infatti sono passati da 4.251 nel 2010 a 3.377 del 2019 meno il 20,6% le case di cure private. Invece nel 2019 avevano 984 posti letto a differenza dei 1.082 in dotazione 9 anni prima meno 9,1%.